In collaborazione con Sostieni anche tu Avis Park Vai su avis.mantova.it Benvenuti ad una nuova puntata del Medico Il Cittadino. Ricordo ai telespettatori che come sempre siamo in diretta, quindi telefonando allo 0376 24 63 20 potrete parlare direttamente con gli esperti che abbiamo in studio. Oggi parleremo di gravidanza, di infezioni, di vaccinazioni dedicate alle donne in età fertile. Per approfondire questo argomento abbiamo invitato il dottor Fabrizio Tardei, primario della ginecologia ad Asola, il dottor Marco Maffiolini, primario ginecologia a Pieve di Coriano, la dottoressa Fabrizia Zaffanella, medico-igienista dell'ASL e la dottoressa Marisa Ferri, ostetrica del consultorio di Goito. Benvenuti. Prima di iniziare a parlare di questo argomento, guardiamo il servizio che abbiamo preparato per voi. Influenza, citomegalovirus, ma anche epatite C, HIV, toxoplasmosi e rosolia sono solo alcune delle malattie infettive che possono avere conseguenze sul decorso fisiologico della gravidanza, sia sulla salute della madre che su quella del bambino. Ma com'è possibile evitarle? Esistono delle vaccinazioni? Si possono prevenire queste infezioni per trascorrere il periodo della gravidanza in tutta tranquillità? In alcuni casi, come ad esempio quello dell'influenza, il vaccino non solo è consigliato in gravidanza, ma addirittura le donne gravide fanno parte delle categorie che devono essere vaccinate e che possono riceverle in forma gratuita. In alcuni casi esistono degli screening prenatali per sapere se in nascitura è stato contagiato o meno dall'infezione. È comunque anche possibile evitare di contare le infezioni assumendo determinati comportamenti e tenendo alcuni accorgimenti. Dottor Tadè, in questo breve servizio abbiamo sentito qualcuna delle infezioni che possono effettivamente manifestarsi. C'è da fare una precisazione. Come si possono trasmettere da mamma a bambino? Quindi come funziona? Sì, le malattie, la trasmissione si chiamano verticale in cui il contagio può venire in utero dal sangue o dai liquidi di altro tipo anche tra la mamma e il bambino. Sono un gruppo di malattie che creano una problematica piuttosto importante anche a livello non solo di politica sanitaria ma anche di tipo emotivo. Ci troviamo di fronte a un gruppo per esempio di malattie che sono assolutamente senza sintomi per la madre e che con un esame del sangue definiamo che non solo lei è malata che non sapeva di esserlo ma che potrebbe ammalarsi anche il suo figlio che è il suo feto che sta aspettando. E quindi tutto un mondo in cui sia proprio per rendere la cosa accettabile dobbiamo utilizzare dei sistemi che siano produttivi, che siano efficaci e che costino poco, che siano soprattutto prevenibili e prevenibili. Ecco perché tutte le nazioni, anche noi in Italia, abbiamo dei protocolli per lo screening, si dice, cioè andare a evidenziare una popolazione presunta sana e quindi non infetta, quelle poche signore che hanno contratto in gravidanza alla malattia e che quindi potrebbero trasmetterlo al feto e anche qui valutare che ci sono tre momenti. C'è momenti che possono essere che si ammala solo la mamma oppure che si infetta il feto oppure che il feto è anche malato. E sono tre cose molto importanti che molto spesso facciamo fatica a comunicare anche alle pazienti. Per quel che riguarda le malattie tipicamente coinvolte in danni fetali e non natali si parlava di Torch molti anni fa adesso andiamo ancora avanti con un decreto ministeriale del 1998 per quelle che sono i protocolli anche gratuiti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale per valutare lo stato immunologico della signora ma abbiamo anche una chiara adesso dimostrazione sulle nuove linee guida per il controllo della gravidanza fisiologica del 2010 che sono stati ribaditi quali esami una donna deve fare nel momento in cui rimane gravida e le malattie che sono state già in parte annunciate nel servizio sono soprattutto la rosolia, la tosoplasmosi, il citomegalovirus, la sifilide, le epatiti e l'HIV perché sono malattie che tipicamente creano un danno solo in gravidanza a parte l'HIV e particolarmente per la rosolia ad esempio è una malattia molto banale fuori dalla gravidanza il citomegalovirus che sono malattie che di solito le donne non sanno neanche da aver contratto mentre invece per il discorso influenza o altre malattie che sono anche la tubercolosi certamente che sono a prevalentemente impegno della mamma più che del feto entriamo nel mondo delle malattie effettive in generale il concetto è che di fronte alla dimostrazione in gravidanza che si fa con gli esami del sangue raramente con i sintomi che la donna ti riferisce noi individuiamo che è stata contratta quel tipo di malattia c'è stata una sieroconversione si dice da uno stato in cui la donna non aveva anticorpi allo stato in cui lo sviluppa noi possiamo dimostrare che c'è stato il contagio tutta l'opera che poi dobbiamo fare noi nel momento in cui facciamo la diagnosi è quella di tranquillizzare la paziente parlando in termini statistici per esempio per il citomegalovirus che è una malattia virale il cui contagio deriva soprattutto dal contatto che la signora ha con le urine soprattutto o la saliva di bambini piccoli infatti molto spesso queste signore hanno già un bambino piccolo a casa o lavorano esposte a contagio con bambini piccoli si fa la valutazione solamente immunologica la donna non dice io non ho avuto niente a quel punto lì pensa che in quel momento sicuramente il bambino avrà le gravi sequele che basta andare in internet e vedere quali sono in realtà se si pensa che di tutte le donne che si contagiano solamente il 10% dei neonati sono infetti e quindi di questi neonati è vero che il 10% potrà avere anche una mortalità per il Natale e che di questi qui di quelli che nascono infetti un 90% avrà delle sequele ma è anche vero che di 100 fetti che si sono infettati in gravidanza il 90% saranno infetti ma non avranno mai nessun sintomo tranne una piccola quota ancora del 10% di questi che nascono senza sintomi che potrebbero sviluppare sequele più tardivamente allora ecco che la cosa diventa anche più gestibile certamente ci sono malattie come rosolia ad esempio che è contratta nel primo trimestre ha degli esiti sia statisticamente arriviamo al 90% e di drammaticità in termini di gravità di malformazioni che sono veramente uno spauracchio ma purtroppo non sono tutte come la rosolia Entreremo poi nel dettaglio di queste patologie a proposito di rosolia, dottoressa Zaffanella in quel caso c'è comunque un vaccino da fare prima ovviamente di avere un agroidante Infatti il gold standard della prevenzione è intervenire prima quindi noi vorremmo che venissero vaccinate le donne in età fertile prima ovviamente di iniziare una gravidanza questo è proprio l'obiettivo che spesso non si riesce a raggiungere perché esiste ancora nonostante le campagne di prevenzione che sono state fatte sulla prevenzione del morbillo e della rosolia e della rosolia congenita soprattutto come diceva il dottor Taddei e nonostante questo esiste ancora una piccola percentuale tra l'altro noi abbiamo fatto anche una valutazione all'interno dei nostri consultori contando praticamente quanti erano le donne che risultavano ancora suscettibili donne che accedevano appunto ai consultori per gravidanza o interruzione di gravidanza e rappresentavano un 7% quindi un dato abbastanza significativo naturalmente la fascia diciamo più fragile è rappresentata dalle donne straniere che adesso rappresentano una buona quota delle nostre donne gravide quindi uno degli obiettivi appunto era anche quello di raggiungere le donne straniere che vuol dire comunque fare un'informazione mirata con materiale tradotto e quindi questo è anche un impegno importante dei nostri servizi e dei consultori eccetera tornando al discorso della vaccinazione diciamo che la rosolia è nell'ambito delle malattie della gravidanza proprio riconosciute insomma come da sempre insomma con un collegamento estremamente forte perché appunto la sindrome da rosolia congenita è una patologia soprattutto se contrattano appunto l'infezione nel primo trimestre estremamente importante e sulla scorta di questo il ministero e poi successivamente la regione tenendo conto che comunque abbiamo anche tutti cioè tutti gli anni abbiamo circa un 30-40 segnalazioni di case a livello nazionale naturalmente è partito con un importante piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita le due malattie la prevenzione delle due malattie è abbinata perché il morbillo scusi il vaccino è combinato quindi esiste un unico vaccino che contiene le tre componenti morbillo, rosolia e parotite diciamo che l'obiettivo primario del ministero è stato il morbillo però ha trascinato anche la rosolia quindi dando una protezione considerando che poi noi abbiamo chiamato attivamente i bambini nel secondo anno di vita e poi con un successivo richiamo 5-6 anni e poi le indicazioni erano proprio quelle e tra l'altro non le stiamo facendo quello di trovare, individuare qualsiasi occasione qualsiasi momento utile di contatto con i servizi vaccinali per controllare l'eventuale suscettibilità e di proporre questo vaccino grazie a questa campagna che è partita intorno al 2004-2005 noi adesso abbiamo una copertura che è sul 95% per i nuovi nati e che ha naturalmente un beneficio nel ridurre la circolazione di questi tre virus quindi morbillo, rosolia e parotite però qual è il problema e l'abbiamo già potuto verificare che se non manteniamo questa buona copertura e non la spostiamo in avanti non la manteniamo proprio il problema è quello che la malattia tutte e due, tutte e tre diciamo comunque ci concentriamo sulle rosolie e sul morbillo si possono spostare in avanti con effetti anche diciamo più importanti noi abbiamo avuto una piccola epidemia di rosolia nel 2008 con circa 130-140 casi fortunatamente non abbiamo avuto nessuna donna gravida coinvolta però questo è il significato il messaggio che si deve continuamente vigilare quindi spostare, concentrare l'attenzione non è ancora mantenerlo sui bambini diciamo ma attenzione anche sulle donne che sono in età fertile che non sono vaccinate quindi lavorare in collaborazione con i consultori e con le aziende ospedaliere e con i reparti di ginecologia insomma proprio perché si deve creare una sinergia forte in modo che tutte le volte che il ginecologo, l'ostetrico, il consultore individua una donna suscettibile e preferibilmente prima della gravidanza naturalmente la possa inviare presso i nostri servizi per la vaccinazione questo era insomma un e tra l'altro proprio anche le linee guida ministeriali e regionali dicono che tutte le volte che è possibile ovviamente vaccinare prima della gravidanza oppure nel post partum quindi dopo la gravidanza poi il parto quando la donna è suscettibile o anche dopo l'interruzione di gravidanza nel momento in cui venisse individuato che la donna non è vaccina non è protetta contro la rosolia Certo, dottor Taddei quindi quali sono le patologie più frequenti che vediamo anche sul nostro territorio? Sì, volevo aggiungere all'affermazione che si riferiva solo a rosolia è perché ovviamente c'è il vaccino per questa malattia quindi la strategia è che le donne arrivino in gravidanza o perché hanno contratto la rosolia o perché sono vaccinate ma è molto importante una valutazione dello stato di immunità anche per le altre come cito Megolo, virus la torsoprasmosi in occasione in occasione di un controllo pre-gravidico pre-concezionale perché in caso di sieroconversione che avviene di solito dopo la rilevazione fatta nel primo trimestre con gli esami di chiamati così standard del primo trimestre per la gravidanza è più facile interpretare il dato molte volte noi abbiamo delle difficoltà a capire se l'infezione è stata contratta in un periodo in cui la donna era inizialmente gravida o prima e le cose cambiano drammaticamente perché il concetto di tutte queste infezioni è che il fetto si infetta solo quando l'elemento che di solito è un virus ma per la torsoplasmosi non è un virus ma è un protozoo è nel sangue cioè nella viremia solo in quel momento lì avviene la possibilità del passaggio alla placenta per tornare alla sua domanda sicuramente dal punto di vista di importanza statistica il citomegalovirus è la prima causa di problematiche neonatali da infezione si pensa che nascono infetti circa l'1% dallo 0,5 all'1% dei malati per i neonatologi per i pediatri è il grande vero problema mentre noi in epoca prenatale o a livello consultoriale anche perché bisogna dirlo il test non è non rientra in quel famoso decreto Bindi firmato Bindi nel 98 per l'esenzione completa dalla spesa sanitaria per le nostre gestanti quindi de facto non è prescrivibile automaticamente ma è anche vero che tutte le linee guida i consensi internazionali e i pediatri spingono in questa direzione è fortemente consigliato de facto quindi esiste uno screening non standardizzato ma proponibile che tipo di patologie crea? ecco il citomegalovirus è una malattia che per la mamma dicevo è paucisintomatica molto difficilmente da problematiche mentre la gravità dell'espressione nel feto neonato parliamo di feto neonato assieme dipende dal momento in cui viene infettata la madre è più raro il passaggio del virus al feto nel primo trimestre di circa il 35% mentre è più frequente alla fine della gravidanza ma come spesso succede alle infezioni i diesiti sono più gravi se viene contratto all'inizio di gravidanza rispetto che se viene contratto alla fine della gravidanza fortunatamente il contrarla e il passarla al neonato come dicevo prima il feto neonato non è così automatico perché al 36% diciamo il primo trimestre è di infettarsi ma se è infetto dicevamo prima che è solo il 10% poi rappresenterà la malattia queste sono vari livelli di gravità in epoca postnatale i problemi sono soprattutto legati a un'ipocusia cioè una sordità però una sordità neurosensoriale cioè è molto difficile da curare da recuperare o problematiche più o meno variabili di sviluppo psicomotorio queste sono il sito megalovirus è un po' anche una problematica particolare di tutte queste perché anche i bambini che nascono infetti quindi eliminano il virus nell'urine per esempio nella saliva dopo la nascita possono possono malarsi anche 12 18 mesi dopo che sono nati quindi per le famiglie diventa un carico anche emozionale importante non c'è vaccino non c'è vaccino ma c'è una forma di prevenzione qualcosa che si può fare a parte scoprire eventualmente di averlo oppure no certo domani domani proprio a Milano c'è una consensus conference della voluta della nostra società che rappresento io che è la società italiana dei ginecologi assieme agli infettivologi neonatologi studio superiore di sanità eccetera dove finalmente abbiamo scritto le linee guida per il controllo di citomegalos i fili dettosoplasmosi rosoria eccetera e in allegato le linee guida finalmente è stato fatto un elenco delle cose da evitare per infettarsi perché non assendoci un vaccino è chiaro che l'unica prevenzione che abbiamo è quella di non contrarre la malattia e si dice che è una malattia tipicamente infantile e che quindi sono i bambini che la prendono e che molte volte non ce ne accorgiamo che la prendono oppure sono nati infetti e non lo sappiamo perché se non vengono studiati in gravidanza il bambino non presenta niente passa come non osservato e quindi noi evitiamo cerchiamo di evitare il contagio con le urine dei bambini piccoli con la saliva banali atteggiamenti in questo elenco c'è anche scritto non leccare il ciuccio del bambino quando lo si mette in bocca oppure evitare di baciare in bocca il bambino quando si è gravidi che per una mamma che è un bambino piccolo è molto difficile ma potrebbe essere più facile evitare di baciare il bambino in bocca se con nipote o il figlio dell'amica per esempio di usare i guanti quando si manipolano i pannolini o cose di questo tipo che anche questo è una norma comportamentale questo è quanto si può fare poi c'è un discorso invece nel momento in cui che cosa facciamo se invece dimostrassimo la sieroconversione allora le strategie sono quelle innanzitutto di capire se il feto l'ha preso perché la mamma chiede questo è stato contagiato il bambino no noi possiamo farlo per esempio con la miocentesi perché il liquido ammiotico almeno verso la ventesima settimana è gran parte urina del feto e se il feto il feto riusciamo a identificare il virus all'interno dell'urina non c'è terapia in questo momento e questo se il feto vengono messi in moto tutta una serie di atteggiamenti di sorveglianza ecografica ma diciamo sempre che anche con un'ecografia perfettamente normale non è detto che il bambino ha un problema di sordità quindi diventa molto molto importante quindi la prevenzione la prevenzione anche la diagnosi la discussione con la copia di quelli che sono i rischi reali che in genere sono sempre ingranditi amplificati dal vissuto così la malattia infettiva nei tempi nella storia ha sempre fatto il terrore dell'umanità dalla peste in avanti non è così bisogna lavorare su questi numeri su questi rischi e c'è stato un protocollo molto grosso uno studio molto grosso sull'utilizzo delle immunoglobuline nel trattamento della citomegalovirus in gravidanza uno studio fatto in doppio cieco usando questo farmaco rispetto a niente si sta chiudendo adesso l'ultima signora la centosettesima signora partorirà a dicembre una volta che si apriranno queste buste si capirà se c'è una terapia la interrompo un attimo perché ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità ci vediamo tra pochissimo bentornati al medico il cittadino prima della pubblicità il dottor Taddei ci stava parlando delle principali patologie che si possono verificare in gravidanza quali altre patologie sono più frequenti e che cosa si può fare vale la pena sicuramente di ricordare il famoso toxoplasmosi il toxoplasma gondi che è un protozoo che ha il suo ciclo vitale all'interno del gatto ahimè il gatto i felini ma noi non abbiamo le tigri quindi insomma abbiamo i gatti tutto dove sporca il gatto questa diventa la fonte del contagio quindi possono essere essenzialmente basta capirlo subito le verdure crude non lavate bene oppure mangiare le carni crude per esempio di bovini che hanno mangiato l'erba contaminata dal gatto ecco perché una delle misure che fra l'altro adesso sentiremo anche nei consultori ma vengono continuamente dette raccomandazioni anche delle mie guida nazionali che dobbiamo informare sono le norme igieniche per evitare il contagio sono appunto quelle di mangiare la verdura cruda non lavata basta lavarla 20 minuti sotto l'acqua corrente ci sarà il problema e siccome la toxoplasmosi il toxoplasma si inattiva totalmente sopra i 90 100 gradi basta cucinare la carne e non mangiare la carne cruda e già questo riduce notevolmente poi dopo chiaramente manipolare la cassetta del gatto che si ha in casa senza guanti e poi introdurlo in bocca è un contagio diretto da parte del gatto si consiglia di non toccare gatti che non si conoscono gatti perché sono per strada al proprio gatto ci sono le linee guida nuove che dicono bisogna dare carni cucinate o comunque tutti i cibi precotti in questo modo semmai non fosse infetto nemmeno il proprio tuo gattino si infetta ma ciò nonostante noi abbiamo solamente abbiamo un problema che è legato al fatto che poche donne l'hanno contratta durante la loro vita solo in Lombardia i dati che abbiamo su uno studio piccolo però ma comunque il significativo è del 22% solo il 22% le donne l'hanno già contratta quindi abbiamo un 80% di donne che potrebbero prendersela è anche vero che se una non l'ha mai presa ai 25-30 anni della sua vita però succede che se la prende in gravidanza mentre con i popoli che vivono al caldo gli africani hanno un 70% di protezione rispetto a tosoplasmosi quindi diversamente per esempio altre malattie come la sefilide dove vediamo che ci sono proprio nelle popolazioni migranti il maggior rischio per la tosoplasmosi siamo più a rischio insomma più a rischio noi che siamo nati e vissi cresciuti in Lombardia se uno se la prende che fa? che si fa? allora anche qui è molto importante se uno se la prende stabilire quando se la presa e soprattutto domanda solita l'ha presa anche il bambino o l'ho presa solo io? questo è il demoscoso che fa la madre anche qui abbiamo la possibilità di cercare nel liquido amiotico il genoma cioè il DNA del toxoplasma quindi abbiamo un diagnosi di certezza e quindi capire se si è infettato il bambino questo non vuol dire che si è ammalato e da lì per capire comunque se si è ammalato si fanno tutta una sorveglianza ecografica che non sviluppi particolari anomalie se ne parliamo prima della nassia dopo la nassia ma la differenza rispetto ad altre malattie è che c'è una terapia è un toxoplasma non è un virus e quindi noi abbiamo degli antibiotici che bisogna dare da subito se visto che si aspetta troppo dal momento in cui al consultorio si vede la sieroconversione al momento in cui l'infettivologo fa il counseling assieme all'ostetico perché qui si deve lavorare per forza in maniera multidisciplinare bisogna cominciare subito una terapia e semmai aggiornarla nel caso in cui la miocente risultasse positiva vuol dire che il feto l'ha anche da anche contratta quali sono i problemi che può creare questa malattia si infatti sono vari diciamo nelle forme contratte all'inizio di gravidanza possono dare degli esti anche fetali importanti che vanno da un'invasione del sistema nervoso centrale prevalentemente ma possiamo avere localizzazioni epatiche gravi che portano anche alla morte del feto sono fortunatamente rare più frequentemente la torsoplasmosi ha una problematica soprattutto di tipo visivo da un'alterazione all'occhio che dipende dall'atteggiamento terapeutico si è visto che se si cura almeno alcuni studi dicono se si cura si riduce notevolmente la gravità degli effetti c'è anche chi come sempre dice che le terapie anche per la torsoplasmosi non sono molto efficaci siamo sempre nell'ambito di ricerche ancora molto aperte un'altra se mi permette è una malattia che va sottolineata perché anche quella c'è la terapia è la lue e la sifilide noi sembra una malattia d'altri tempi in realtà e invece no e invece no lo studio condotto l'anno scorso sulle grosse città come Roma e Milano indicano un aumento del 3-400% rispetto al decennio precedente di lue la sifilide è una malattia mi si permetta banale da un punto di vista terapeutico cioè basta prendere un po' di penicillina il problema si risolve per la mamma che comunque è una malattia che ha le sue ripercussioni anche nella donna non sono effetto e anche sulla lue con natale che è una cosa una malattia piuttosto grave con indici di mortalità in utero mortalità post natale oppure con sequele anche a lungo termine di questi bambini quindi identificarla ecco gli screening che ci sono vuol dire cominciare indirizzare la signora all'infettivologo l'infettivologo fa una settimana di penicillina e il problema è in gran parte risolto questo si può fare anche in gravidanza quindi la cura perché a volte uno non vuol prendere assolutamente niente in gravidanza dice no aspetto invece no devono prenderla e anche per la torsoplasmosi lo stesso discorso chiaramente tutti i farmaci possono essere presi bisogna fare il costo beneficio di fronte al rischio di avere un danno sul bambino non ci sono discussioni che vengono anche sopportati alcuni effetti collaterali di una terapia con la torsoplasmosi con i sulfamidici abbastanza dosaggio alto un'altra malattia che bisogna dire che c'è anche questa la terapia che non ci si pensa mai è il virus dell'AIDS l'HIV perché nei mondi occidentali che possono permettersi la terapia per l'HIV in gravidanza e il far nascere i bambini in questo momento con il taglio cesareo ci sono discussioni anche su questo in base alla carica virale ma attualmente la madre la gestante che vi partorisce col taglio cesareo ha cambiato drammaticamente la mortalità di questi bambini nei primi anni di vita per l'AIDS rispetto ai popoli i popoli africani che non possono sempre permettersi queste cose quindi c'è tutto un protocollo l'importante è trovare negli screening le donne che sono seropositive e non lo sanno e poi basta impostare la terapia e l'atteggiamento di assistenza per il Natale con i protocolli che sono delle flebo da fare con i tempi giusti prima di estrarre il bambino con il taglio cesareo e la possibilità di morire di essere per questi bambini è molto vicina allo zero ecco in tutti i casi che abbiamo più o meno elencato facendo la terapia dove c'è come nasce poi il bambino nel senso siamo sicuri che non avrà problemi no non siamo sicuri è proprio questo il problema del counseling si dice del colloqui che noi facciamo con queste signore con le coppie con tutta la famiglia perché poi chiaramente di fronte alla malattia effettiva ci muove tutto un mondo anche come dicevo prima emozionale noi dobbiamo sempre comunque considerare che anche con la terapia ci possono essere degli esiti ma che noi con la terapia riusciamo a ridurli altrimenti non esisterebbe neri neanche anche lo scopo di fare lo screening certo perché la tosoplasmosi non è una malattia frequente però se c'è una terapia vale la pena andarla a trovare colpisce anche questa circa l'1% quindi l'1% poi il limite è per affrontare un sacco di spese pubbliche per andarla a cercare ma quell'1% che troviamo almeno abbiamo la possibilità di curarlo certo volevo aggiungere una cosa velocissima rispetto alla LUE questo dato di aumento dei casi che segnalava il dottor Taddei è confermato anche all'AS di Mantua noi raccogliamo le segnalazioni delle malattie infettive dei nostri residenti effettivamente negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento significativo delle segnalazioni di LUE veramente con una proprio tre o quattro volte tanto gli anni precedenti rispetto agli anni precedenti perché? promiscuità come dire insomma costumi più liberi la percezione che la malattia non esiste più quindi l'idea che fosse una malattia appunto del passaggio e che quindi uno non ci pensa e l'arrivo probabilmente anche di nuovi soggetti che possono essere infetti e quindi la trasmissione sessuale è il modo più veloce per trasmettere le malattie a parte quella aerea e quindi se migrano persone che hanno la malattia in fase acuta chiaramente possono contagiare lei è un'ostetrica al consultorio cosa fa il consultorio voi come vi rapportate quindi con le donne che arrivano da voi allora nel nostro consultorio vengono seguiti circa il 50% delle gravidanze della nostra provincia il nostro scopo è quello di dare a queste donne cioè fare della prevenzione sia dal punto di vista sanitario che sociale nel consultorio operano un'equip composta dall'ostetrica che c'è sempre come prima figura un ginecologo uno psicologo un assistente sociale quando cede la donna al nostro consultorio durante il primo accesso facciamo una cartella ostetrica dove facciamo un'anamnesi accurata dalla donna per individuare le eventuali malattie che ha avuto nel passato o che nell'immediato nelle prescrizioni dei primi esami negli esami del primo trimestre appunto dove vengono chieste oltre a quelli di rutina anche tutti gli esami che ha appena elencato il dottor Taddei facciamo una curata informazione dal punto di vista igienico sanitario alimentare appunto per evitare che là dove ci sono mamme che hanno già dei bambini piccoli mamme che hanno bambini che vanno all'asilo dove la scuola materna dove appunto ci può essere più facile il contagio diamo tutte poi queste indicazioni per evitare che ci possono essere appunto dei rischi di rinfezione per loro dove c'è la necessità dove c'è anche qualche problema dal punto di vista diciamo per quanto riguarda sociale abbiamo anche la possibilità appunto di supportarci con i componenti dell'altro nostro gruppo in più abbiamo ultimamente anche preso appunto l'abitudine di prescrivere sempre più frequentemente gli esami preconcezionali nelle donne in fascinità fertile dove evitare appunto di arrivare senza sapere se hanno avuto la toxola la rosolia che magari sono state vaccinate ma non hanno avuto immunizzazione e via dicendo in più abbiamo un buon rapporto adesso fra una collaborazione fra territorio e ospedale per garantire sempre di più un'assistenza adeguata dove ci sia necessità oltre alla gravidanza fisiologica ci tengo a precisare che tutte le prestazioni anche che vengono offerte nei nostri consultori sono gratuite perciò anche per le donne che al giorno d'oggi una buona fascia di donne sono straniere possono accedere ecco infatti com'è cambiato il costo al lavoro è cambiato molto perché noi abbiamo sul 50% delle gravidi che accedono al nostro consultorio abbiamo un'alta percentuale di estracomunitari di donne estracomunitarie e lì abbiamo proprio delle difficoltà anche per farci capire spiegare loro cosa che regole che norme igieniche devono rispettare per evitare che ci siano poi dei problemi delle infezioni e lì purtroppo abbiamo un supporto anche con dei traduttori però sicuramente ci mette più in difficoltà e notiamo comunque sempre più casi di infezioni legate proprio a queste donne ecco rispetto a le nostre poi si diceva che in molti casi è difficile magari convincere eh sì già le italiane diciamo di fare determinate prevenzioni quindi determinate vaccinazioni penso che con una cultura diversa sia ancora più comunque difficile sì è molto difficile poi anche dal punto di vista economico perché ad esempio il citomegalovirus appunto lo devono pagare perché non è previsto dal protocollo ministeriale e noi spieghiamo l'importanza di questo esame diciamo che quasi tutte lo accettano però qualcuna per problemi economici non lo vuole fare non sono obbligatori perciò cerchiamo di fare prevenzione il più possibile e cerchiamo di seguirle durante tutto l'iter e poi appunto abbiamo un rapporto sia con l'ospedale l'infettivologo per eventuali positivi tutta una serie di accertamenti le ecografie di secondo livello appunto con l'ospedale insomma tutta una serie di cose che cerchiamo per fare in modo che la gravidanza venga seguita nel modo corretto quanto è cambiato anche il rapporto con il consultorio quindi le persone vengono di più rispetto al passato nei consultori avete visto una differenza insomma di accessi diciamo che c'è stato un aumento negli accessi del consultorio soprattutto appunto legato alle fasce di cittadini stranieri ecco abbiamo un riscontro molto elevato abbiamo quindi comunque la donna può arrivare sia prima di avere una gravidanza durante la gravidanza insomma viene comunque seguita seguita presa in carico dall'inizio della gravidanza per tutto il percorso della gravidanza con controlli programmati dove facciamo fare gli esami dove viene controllato tutto tutto l'interno della gravidanza cioè dall'inizio e poi controllo successivo alla gravidanza il postpartum ci sono corsi di preparazione accompagnamento alla nascita nei consultori ci sono corsi gruppi dopo post nascita anche che sono molto ben visti dalle mamme che hanno sempre bisogno e ricercano sempre un contatto con del personale diciamo sanitario esperto certo per dargli consigli nelle presentazioni esatto è abbastanza frequente insomma questo ecco tra gli argomenti che riguardano la donna quindi non necessariamente in questo caso non in gravidanza però c'è anche il papilloma virus papilloma virus che adesso ha un vaccino guardiamo prima il servizio che abbiamo preparato per voi e poi ne discutiamo insieme il papilloma virus umano o HPV è un virus appartenente al gruppo dei papilloma virus le infezioni da HPV sono estremamente diffuse e possono causare malattie della pelle e delle mucose si conoscono oltre 100 tipi di HPV dei quali la maggior parte causa malattie non gravi quali ad esempio le ferrucche cutanee alcuni tipi di HPV possono tuttavia causare tumori benigni quale il candiloma genitale e anche maligni quale il cancro al collo dell'utero al cavo orale all'esofago circa il 70% delle donne nella propria vita ha contratto un'infezione da HPV ma la grande maggioranza dei casi queste infezioni scompaiono spontaneamente nel corso di pochi mesi grazie al loro sistema immunitario solo in caso di persistenza nel tempo di infezioni di HPV ad alto rischio oncogenico è possibile lo sviluppo di un tumore maligno nel collo ulterino l'infezione da HPV è asintomatica nella maggior parte dei casi quindi difficilmente diagnosticabile a meno di controlli costanti ora per il papilloma virus c'è la possibilità di vaccinazione viene distribuito gratuitamente alle ragazze di età inferiore ai 12 anni e può essere effettuato fino ai 26 anni Dottor Maffiolini papilloma virus papilloma virus è di particolare interesse per quanto riguarda la sfera ginecologica la sfera genitale come dicevo il servizio giustamente per la sua enorme diffusione quel numero che è stato citato del 70% di donne che comunque contraggono un rapporto con questo virus e che comunque non necessariamente ne manifestano poi le relative malattie ci deve far pensare molto in Italia diciamo che i casi di tumore del collo dell'utero i nuovi casi sono circa 3500 in un anno e di questi 3500 1700 purtroppo arrivano al decesso il che significa grossomodo una donna ogni 5 donne ogni giorno il numero presentato così è significativo è particolarmente significativo l'infezione da papilloma virus è un'infezione prettamente a trasmissione sessuale la trasmissione sessuale però vuol dire che la sua localizzazione non è necessariamente a livello del collo dell'utero però può essere appunto come si diceva anche a livello dei genitali esterni quindi della vulva della vagina stessa ma anche dell'ano e anche del cavo orale per cui non è forse giusto parlare di una malattia prettamente correlata con fila dal collo dell'utero ma di una malattia più tipica del basso tratto genitale per cui a seconda della localizzazione avremo delle lesioni che si localizzeranno sul collo dell'utero secondo la vecchia classificazione lesioni di tipo C1 C1 C2 C3 nella loro gradazione che sono le lesioni pretumorali fino a arrivare al tumore microinvasivo e poi al tumore invasivo ricordiamo che da un grado zero di lesione a un tumore francamente invasivo passano sette anni in questi sette anni si colloca tutto l'ambito della nostra possibile prevenzione per quanto riguarda la lesione pretumorale invece l'intervallo di tempo è di circa cinque anni però parliamo anche quindi della malattia della vagina del vine della vaginal intraepitelial neoplasia così come del tumore della vulva perché anche esso del vulva del vin vulvar intraepitelial neoplasia è caratterizzato dalle stesse tipologie di virus non tutti questi 100 virus riguardano però il tratto genitale solo una quarantina di questi virus caratterizzano la malattia del basso tratto genitale ma a loro volta non tutti questi virus sono così cattivi abbiamo una classe di virus meno cattivi non certo buoni che possono dare lesioni intraepiteliali di basso grado e che possono anche regredire spontaneamente o possono andarsene e virus un po' meno felizi che possono invece portare a una progressione di malattia ricordiamo prima di presentare i virus ci separiamo ancora per qualche istante di pubblicità torniamo tra poco bentornati al medico il cittadino prima della pubblicità con il dottor Maffiolini stavamo parlando dei virus che provocano il papilloma virus cattivi meno cattivi fortunatamente c'è un po' di differenza possiamo entrare un po' nel dettaglio certo abbiamo virus tipo il 6 il ceppo 6 il ceppo 11 che sono i meno cattivi virus tipo il ceppo 16 il 18 il 33 il 31 che invece sono decisamente più aggressivi questa loro aggressività si manifesta in due forme la prima è la permanenza del virus all'interno dell'organo che hanno colpito che hanno interessato questa qui è correlata strettamente al loro potere oncogeno cioè meno un virus ha potere oncogeno meno rimane in un contesto tessutale più un virus ha potere oncogeno più rimane a lungo più è in grado di indurre quelle lesioni che porteranno poi gradatamente alla lesione pretumorale e poi successivamente se non viene curata ma prima ancora diagnosticata quindi prevenuta al tumore invasivo del collo dell'utero o della vulva perché quello della vagina è decisamente più raro parlando di sintomi come ci si può accorgere è importante fare prevenzione abbiamo detto che passa un arco di tempo abbastanza lungo perché comunque si parla di 7 anni quindi è fondamentale la prevenzione perché anche dal servizio sentiva che a volte è asintomatico passa da solo e uno magari non si accorge neanche di averla avuto va distinto il tipo di localizzazione del virus se la localizzazione è esterna e appartiene a un determinato ceppo possiamo avere la presenza dei condilomi la donna si accorge di queste piccole formazioni queste piccole spiccole di solito scarsamente sintomatiche le avverte al tatto abbastanza precocemente quindi si interviene abbastanza precocemente su queste lesioni la diagnosi è soprattutto visiva anche se opportuno e utile fare una tipizzazione del virus anche sui condilomi esterni invece parlando di collo dell'utero purtroppo non abbiamo sintomatologia fino a che non si manifesta la lesione francamente invasiva che può dare perdite di sangue atipiche oppure una leocorea cioè una perdita vaginale bianca abbastanza però aspecifica per cui la nostra diagnosi per quanto riguarda specificatamente il collo dell'utero è affidata soprattutto più che alla clinica al pap test il pap test è un test che ha circa 70 anni di storia è nato grossomodo nel 1940 negli Stati Uniti pap test o test di Papa Nicolao mantiene a tutt'oggi assolutamente anche con l'intervento della vaccinazione la sua validità io ricordo una frase che alcuni anni fa avevamo messo sui fogli di dimissione della nostra unità operativa a prescindere dal motivo per cui la paziente era stata ricoverata avevamo messo questa frase una paziente che esegue con periodicità il suo pap test non morirà mai di tumore del collo dell'utero e questa è una verità assoluta e viene mantenuta a tutt'oggi per cui diciamo la diagnosi è affidata soprattutto al pap test ogni quanto va fatto? dipende diciamo che noi seguiamo quelli che sono i detami regionali che danno una periodicità di 3 anni circa e fino all'età di 65 anni se noi vogliamo essere un attimo più specifici il pap test andrebbe eseguito 6 mesi un anno dopo il primo rapporto perché la probabilità di incontrare l'infezione virale si concentra dai 15 ai 25 anni quindi la prima volta che il virus viene contratto viene contratto più facilmente attorno a questa classe di età e già precocemente se abbiamo ceppi virali di tipo abbastanza importante a potere oncogene elevato noi possiamo già avere qualche segnalazione di localizzazione importante certo che le nostre popolazioni sono popolazioni particolarmente scrinate la nostra attenzione per quello che riguarda la malattia in se stessa si rivolge oggi soprattutto a popolazioni dell'est o popolazioni dell'africa che non hanno avuto uno screening negli anni precedenti certamente per il papillomavirus c'è il vaccino certo dedicato ad una determinata fascia di età però anche in questo caso sì la vaccinazione è suggerita dai 12 anni fino ai 26 anni questo perché nella ragazza di 12 anni ecco va detto che la regione Lombardia si è sensibilizzata tra le prime sul fatto di vaccinare di dover vaccinare proporre alla ragazza alla giovane ragazza questa fascia di età quindi di 12 anni perché esiste una situazione immunitaria particolarmente favorevole alla recezione di questo vaccino e poi c'è da dire che al di là dei 26 anni è molto alta la probabilità che una donna sia già venuta a contatto col virus e quindi si sia già immunizzata ecco forse a completamento di quello che veniva detto prima va anche detto sempre parlando di diagnosi che esistono anche altri metodi oggi per poter arrivare a diagnosi più specifiche oppure metodi che ci possono anche consentire di migliorare il nostro percorso diagnostico terapeutico e di follow up di monitorizzazione della paziente che invece ha avuto la lesione pretumorale parlo per esempio del pap test in fase liquida che è una particolare forma di pap test che ci consente però di monitorizzare meglio questi casi può essere usato anche in prima istanza oppure di un test molto recente che si chiama fish test e si basa sull'identificazione genica di un loco genico che è il 3QNT6 con un software particolare una colorazione immunofluorescenza particolare si evidenziano le coppie di questi geni il software calcola il numero di coppie presenti ed è in grado di essere predittivo sull'evoluzione di questo tipo di virus e quindi può incidere sulla monitorizzazione l'altra forma di diagnosi importantissima è proprio la specifica genica del virus il DNA il DNA virale molto semplice eseguirlo con un tampone anche a secco si esegue questa ricerca la sonda individua il ceppo altamente oncogeno ripeto soprattutto il 16 18 eccetera o il ceppo a potere minore oncogeno come il 6 11 ma ci dà già un'indicazione su quello che potrebbe essere l'evoluzione di questa possibile malattia dove ci si può vaccinare? a tutt'oggi ci si può vaccinare sul territorio e la vaccinazione gratuita per le ragazze di 12 anni la nostra azienda ospedaliera ha fatto un'offerta per le ragazze dai 13 anni ai 26 anni che appare particolarmente interessante il vaccino di per se stesso ha un costo abbastanza elevato costa attorno ai 560 euro noi con questo tipo di offerta proponiamo una vaccinazione a costo decisamente inferiore cioè 60 euro circa per vaccino e richiamo ricordo che si fa una vaccinazione al tempo zero una a due mesi e una a sei mesi di solito si usa il quadrivalente e questa offerta dell'azienda trova la sua collocazione negli ambulatori dei tre presidi ospedalieri Asola Pieve di Coriano e Mantua e esistono ambulatori dedicati il loro accesso tramite CUP le vaccinazioni a seconda che la ragazza sia in età pediatrica fino ai 17 anni vengono fatte dai pediatri e dai 17 ai 26 dai ginecologi previo colloquio con la paziente ecco una cosa importante e una cosa da stressare particolarmente è questa la ragazza vaccinata non è esente dall'eseguire il PAP test il PAP test va comunque eseguito perché il vaccino non è in grado di coprire tutta la gamma dei ceppi oncogeni ne copre circa il 90% anche più del 90% anche il quadrivalente è fatto su 4 ceppi ma dà un'immunità allarga le difese immunitarie anche sugli altri ma non ne garantisce la copertura quindi vaccino sì ma PAP test altrettanto sempre ecco dottore alle 11-12 anni che sono il target della campagna attiva praticamente quindi la regione come diceva appunto prima il dottor Nafiolini sulla scorta ovviamente le indicazioni della conferenza stato-regione eccetera ha aderito alla proposta nel 2008 quindi noi nel 2008 tra il 2008 e il 2009 siamo partiti con la chiamata attiva delle 11 anni siamo partiti con le bambine nate nel 1997 quindi le chiamiamo tramite invito postale quindi ricevono un invito attivo con un ambulatorio dedicato per una questione organizzativa migliore proprio perché una vaccinazione abbastanza particolare differente un po' dalle altre vaccinazioni dell'infanzia le abbiamo concentrate nelle sedi distrettuali quindi a Manto Vasola eccetera e in alcune realtà distrettuali le abbiamo diciamo attivate in collaborazione con le ostetriche soprattutto nella prima chiamata la prima vaccinazione l'ostetica era presente proprio per fare un counseling migliore alle mamme che erano comunque preoccupate soprattutto perché è una vaccinazione che ha un legame con la vita sessuale quindi di fatto molte mamme avevano difficoltà ad accettare questo tipo di discorso quindi siamo adesso nel 1997 il 1998 il 99 stiamo praticamente concluso partiremo nel 2000 la campagna non va straordinariamente bene nel senso che la copertura è attestata ma questo è anche un media regionale sul 60 il 65% quando l'obiettivo che il ministero darà ancora non è ufficiale però si sta parlando nel 2013 l'obiettivo è del 95% qui siamo veramente molto lontano c'è ancora molto da lavorare però mi aggancio ancora importantissimo al discorso del dottor Maffioni rispetto a queste due modalità di prevenzione che devono andare di pari passo quindi si integrano straordinariamente quindi sono due modalità veramente interessanti protettive però devono essere integrate quindi il pap test e la vaccinazione si interano l'una con l'altra quindi questo è un discorso assolutamente sul quale insistere insomma perché c'è ancora paura di questo vaccino? perché fa paura? ma tutto quanto entra nella prevenzione perché sentendo questi rischi ha detto una cosa giustissima Marco Marfolini ha detto attenzione fare il vaccino non vuol dire non fare più il pap test una cosa giustissima ha detto attenzione va bene fare il vaccino e anche il pap test ribadito qui io aggiungerei qualcos'altro attenzione che la prevenzione della trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse è un problema gravissimo nel mondo delle nostre giovani donne e maschi perché adesso si sta introducendo il vaccino anche nei maschi Lombardia ha dato il via libera dopo una sperimentazione fatta all'Università di Brescia perché è ovvio che la strategia per ridurre il contagio prevede anche la vaccinazione dei ragazzi ma dobbiamo lavorare non per settore la trasmissione dell'HPV può essere simile a quella dell'HIV dell'epatite dell'epatite C che può rovinarti la vita un'epatite C in termini di devastazione di un fegato che poi e della clamidia per esempio di cui non si parla ma che dà gravi danni per esempio di occlusione tubarica delle donne gravi grandi di sterilità di coppia eccetera quindi tutto assieme deve essere fatto un discorso che va al di là del vaccino al di là del pap test che può essere in abito di un'educazione igienica comportamentale dei rapporti sessuali in età giovanile questo è il problema perché fa paura affrontare questo perché come diceva giustamente per una mamma di una bambina di 11 anni entrare e per il papà specialmente a pensare a dare un'educazione che prevenga a una cosa a trasmissione sessuale legata al numero di rapporti ai partner eccetera diventa un po' tabù affrontarlo in quell'età lì poi magari quando 18 anni dice sarebbe stato meglio che l'avessi vaccinata no? ecco perché la sicurezza del vaccino in realtà si presume che passando per tutti gli organi di controllo che ci sono italiani europei qui si parla di farmaci AIFA insomma di che c'è stato un grande controllo dovremmo prenderla come assodata altrimenti il problema rimane per qualsiasi farmaco e per qualsiasi vaccino insomma non abbiamo dimenti sì no no infatti volevo aggiungere infatti una delle motivazioni per esempio che qualche mamma aduce per non vaccinare le bambine è proprio la precocità all'età giovane e sono più disponibili a vaccinarle più avanti perché ritengo che la bambina sia più adeguata infatti molte bambine vengono vaccinate dopo due o tre anni rispetto a quelli del 97 si è vaccinata presso gli ambulatori dell'azienda ospedaliera perché erano ormai per noi fuori target e quindi hanno rinunciato come dire a un'offerta vaccinale gratuita nel tempo giusto diciamo preferendo aspettare due o tre anni probabilmente hanno dovuto proprio maturare questa idea di 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 certo anche come ASLA andiamo anche nelle scuole a cercare di fare prevenzione appunto nelle classi più orissime ragazzi ci sono i consultori giovani dove cerchiamo di fare prevenzione appunto su questi rischi so che ci sono anche dei consultori online per magari avvicinare comunque c'è tutta una serie una rete di informazione informativa proprio in ASLA per cercare appunto di dare informazioni e cercare di fare prevenzione anche a livello proprio dei ragazzi sì un'altra osservazione che si riallaccia a quanto ha detto Fabrizio precedentemente è quella sulla prevenzione cioè rientri in uno stile di vita un accenno al profilattico il profilattico è importante è importante anche nella prevenzione del papilloma virus ma non è assolutamente decisivo perché comunque si può avere lo stesso una trasmissione del papilloma virus nonostante l'uso del profilattico però il discorso sul profilattico va ben oltre ed è quello che dicevi prima cioè ti conferisce una prevenzione sull'AIDS così pure su un mare e altre malattie sessualmente trasmesse per cui non va visto soltanto in quest'ottica ma in un contesto molto più ampio e per rassicurare le mamme e anche le ragazze che devono fare questa vaccinazione ricordate che l'effetto peggiore del vaccino mal che vada è un piccolo arrossamento cutaneo qualche volta una minima reazione febbrele in casi abbastanza sporadici ma al di là di questo non c'è veramente nulla quindi un messaggio rassicurato quindi è solo proprio essere pronti psicologicamente per affrontare questa cosa più che un messaggio siamo quasi in chiusura quindi di per i nostri telespettatori un messaggio un consiglio anche abbiamo parlato tanto di prevenzione lo chiedo un giro sul papillomavirus sicuramente vaccinate tranquillamente le ragazze importante è il messaggio riferito prima questa vaccinazione si estenderà anche ai ragazzi perché se è vero che è oncogeno sul collo dell'utero verosimilmente lo è anche sul tratto terminale del tubo digerente a livello anale a livello anoretale ma anche a livello orale quindi la vaccinazione è verosimile che possa avere un'azione preventiva molto più ampia quindi sicuramente vaccinate le vostre ragazze e fate il pap test Dottor Taddai in gravidanza sottoporsi ai test di screening da valutare se affrontare anche questi pochi euro che devono essere spesi per il citomegalovirus perché è un problema che noi medici avvertiamo quasi di più che per altri la prevenzione primaria fondamentale igiene alimentare di vita per citomegalovirus per toxoplasmosi e affrontare semmai il problema succedesse la cosa in maniera serena facendosi aiutare da esperti nel settore perché c'è ancora molta confusione proprio nell'informativa del web per esempio di internet che mette un po' così dei forum lì l'errore viene addirittura amplificato se per caso ci si mette a chattare con alcune signore che hanno avuto informazioni sbagliate quindi centri specializzati dove fidarsi del proprio medico è assolutamente fondamentale il tempo a nostra disposizione è terminato ringrazio tutti i miei ospiti ringrazio il dottor Taddei il dottor Maffiolini la dottoressa Zaffanella la dottoressa Ferri per essere stati con noi grazie per averci spiegato un po' questo universo di cui ci sarebbe ancora tantissimo da parlare e grazie a tutti voi per averci seguito il medico e il cittadino torna la prossima settimana in collaborazione con sostieni anche tu Avis Park vai su avis.mantova.it Grazie a tutti